E allora il prossimo partecipante in gara da Paolo del Colle canta Terry Colaianni, 11 anni, guardate sempre in camera, mi raccomando, ciao, come va? Bene, allora adesso tu canterai che cosa? Fuoco e cenere di Micaela, di Micaela, allora adesso la giuria, loro ti guardano e se a loro piaci ti voteranno, vuoi dire qualcosa a loro? No? Votatemi, dillo, votatela, se volete. Spengo, riaccendo, mi giro e poi mi guardo intorno, spengo, riprendo i sensi quando viene giorno, petali di vita, sfoglio sopra il tempo, ora che è finita, me ne rendo conto, ora che le mie mani cercano il tuo viso, corre e stringe le emozioni in un istante e vola quel desiderio vivo ed accecante adesso che senza te io non respiro più. Ed è così che tu vivi dentro me come fuoco e cenere, come tutto e niente, come il bene e il male, male da morire, sì, perché bruci dentro me come fuoco e cenere, come vento e polvere, mi porti via un sogno pieno di poesia. Guardo la gente, le sfide di ogni giorno, sguardo, assente, inseguo il tuo ritorno, ma non riesco a credere che non sei qui con me. E' così che tu vivi dentro me come fuoco e cenere, come tutto e niente, come il bene e il male, male da morire, sì, perché bruci dentro me come fuoco e cenere, come vento e polvere, mi porti via un sogno pieno di poesia. e penserò come un fiume in piena per convincere il tuo addio. Si arrivano velocemente dall'aldilà, da dove venite ragazzi? Stavate qua a provare sempre. Allora, provate, mamma mia, di dove sei, scusa? Di Bari. Di Bari, pensavo della Germania. Eh, tu invece di Bari. Di Bari. Di Bari, venite da? Quale scuola? Dai Vali Latini. Vali Latini, vivo latino, da Bari? Venite? Sì. Sì, ok. I vostri maestri sono? Cosmo? Valentina Alessio. Ah, Valentina Alessio, molto bene, rimaniamo sempre in famiglia, naturalmente. Alessio è quello che è super abbronzato, abbronzato, quello tutto figo, va bene, da queste parti, lo vedo. Cosa ci avete preparato? Il cia-cia-cia. Il cia-cia-cia, vedevo prima che mantenevi il cappello in quella maniera, eh, dietro le quinte. Te l'eggenica questa fanciulla, non è vero? Allora, signori pronti per questa penultima esibizione, un applauso per loro. Allora, signori e signori, qui è il Cafè Latino. Allora, una grabazione di lunga durazione per ballare e per giocare. E che tutto il mondo conosceva perché qui è il Cafè Latino. Allora, signori e signori. Allora, signori e signori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.